Ovindoli Campo Felice uniti dalla nuova cabinovia che verrà collaudata in una data importante e simbolica qual è l'8 dicembre. La notizia è stata diffusa a margine del sopralluogo del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio sugli impianti sciistici. Il governatore accompagnato dal sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli ha visitato il cantiere della nuova infrastruttura che proietterà il comprensorio verso orizzonti importanti a livello turistico. Questo almeno l'obiettivo ambizioso cui si tende con la nuova cabinovia che sarà intitolata Max Bartolotti, compianto presidente della società che gestisce gli impianti, scomparso nel 2018. Realizzando quindi un'attrezzatura per gli sport di montagna molto importante che diventerà davvero il volano dello sviluppo economico del territorio e del definitivo rilancio turistico. Intanto questo primo lotto lo abbiamo potuto inaugurare il cantiere e speriamo tra poche settimane di poterlo concludere e collaudare. Questo impianto è stato approvato avendo ricevuto le autorizzazioni di tutti gli enti preposti alla tutela e alla conservazione delle specie protette, della natura, dell'ambiente a cominciare dal parco regionale Sirente-Velino. L'opera sarà il frutto di una convenzione tra regione e comune di Ovindoli. È stata finanziata per 4 milioni e 340 mila euro e si va verso la conclusione dei lavori del primo lotto. È un investimento importante, un investimento che ci proietta ad ampliare il bacino scistico di Ovindoli affacciandoci verso Campo Felice. Quindi ci auguriamo in un futuro veramente in questo sogno per il territorio, importante per le aree interne, e quindi ci auguriamo in un futuro molto più grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.